Questi due draghi stanno tornando, ma nessuno era pronto. Benvenuti o bentornati ragazzi in questo nuovo video, io sono Red e oggi vediamo che Diamine combina il banner della 4.2 5.2, a volte mi scordo anche come mi chiamo. Lucia? Certamente dalle ultime news sapevamo che nella 4.2 c'era Ciasca. Ovviamente l'account ufficiale di Genshin Impact su Twitter ha ufficializzato la sua uscita come personaggio 5 stelle e spoiler, ve lo dico adesso, lo vedremo anche nei prossimi giorni, assieme a Ciasca nella prima metà avremo l'Inei e quindi ovviamente in futuro, tra pochi giorni, parleremo del banner army che si preannuncia davvero un buon banner per gli archi. In ogni caso oggi vediamo cosa comporta l'uscita di New Villette assieme a Zong Lee in seconda parte. Innanzitutto facciamo un bel salto per vedere da quanto questi personaggi non tornano e prima ovviamente partiamo da New Villette perché non torna da solo 6 mesi. Abbiamo personaggi 5 stelle, togliendo ovviamente quelli standard, quindi scenè che non torna da 19 mesi. Andiamo un po' più in basso, prendiamo personaggi che hanno il giusto di tempo, 12 mesi che non torna Utao e ovviamente tornerà adesso in 5.1, quindi dopo circa 13 mesi un personaggio di media, quindi circa un anno, dovrebbe tornare New Villette, il maledetto dopo a malapena, ok che passerà ancora un po' di tempo perché c'è un mesetto e mezzo, però dopo 8 mesi, circa 8 mesi e qualche giorno, il maledetto riuscirà ad avere la sua run. E attenzione, perché con questa, essendo già 2, significa che lui va a 3. E per chi non lo sapesse, nel banner chronicle, cioè il secondo standard, ok, i personaggi sono sì raggruppati per nazioni, ma possono entrarci seguendo due regole ed entrambe devono essere verificate. La prima è che il personaggio deve aver avuto almeno 3 totali run, quindi essere uscito, run 1, run 2. Quindi New Villette sarebbe dentro, ok? E la seconda regola, sempre da dover seguire ovviamente, è di non dover tornare da un pochetto di tempo. Quindi ufficializza questo che se in futuro avremo mai un chronicle wish di Fontaine, New Villette potrà ufficialmente finirci dentro. Seconda cosa, guardiamo Zongli, ma l'ho visto prima che è in cima, eccolo qua, lui non tornava da 13 mesi, per quando andiamo alla sua uscita saranno quei 15 mesi, qualche giorno. Quindi Zong è sensato, ci sta, New Villette che torna in soli 8 mesi, è una mossa di marketing. Non siamo scemi, lo sappiamo benissimo, io, così come voi, se non lo sapete ve lo dico adesso, ma VUICA uscirà in 5.3. Non abbiamo conferma anche per il Traveler Pyro se è in 5.3 o in 5.4, poi vi aggiornerò. Quindi, se volete seguirmi, a me fa davvero un gran piacere, aiuta a sviluppare il canale e voi rimanete informati con le news. È certo che in 5.2 ti pompano tutto ciò che possono. Zongli che molti desiderano come Shielder, e New Villette che ha un forte DPS, è Hydro, applica l'elemento e quindi tutti vogliono averlo. La cosa un pelo più strana è legata all'uscita degli Archon nelle batch, che significa che benissimo, ogni volta ve lo dico, che ogni inizio batch, quindi Fontaine, Sumeru, Natlan, gli Archon vengono rerannati dalla .0 fino alla .5, .6 in base a quanti sono. Quindi, ad esempio, abbiamo avuto un Archon nella 5.0, che era Raiden, in 5.1 adesso avremo Naida, in 5.2 avremo Zongli di Villette e in 5.3 avremo Mavu Ica. Però solitamente gli Archon sono 1 a patch. Perché in questo caso sono 2? La mia io vuole dirci qualcosa? Perché l'Arcon Geo è per forza Zong, ok? Quindi al massimo New Villette non viene definito come Archon Hydro. Però non ha di nuovo senso. Perché metterlo in run dopo 8 mesi? C'è chi aspetta da più di un anno, povera Xené! Ha maggior ragione, se fai Xené e Zongli sono entrambi di Ljue, potevi pure farci un evento per quando uscivano, sempre a Ljue. In ogni caso, per quanto si è inaspettato, qual è il loro valore nel meta? Partiamo da Zongli, perché personalmente quest'uomo dalla sua uscita fino ad oggi, quindi per oltre 3 anni, non ha smesso di stupirmi. Nel senso che con ogni altra uscita di personaggi ha preso value, ha perso value, ha preso value, ha preso value. In una spirale infinita di comunque, dopo anni, è ancora miglior Shielder. Abbassa le resistenze, ha uno scudo infinito, sei al sicuro e in alcuni casi il doppio Geo è una buona resonanza. Per capirci, al giorno d'oggi, con lo stesso Nuvilet viene utilizzato. Quindi Nuvilet, Furina, poi magari una Jin, una Fischel, un Kazza, un Baizu e in fondo Zongli. Ed è forte come team, perché Nuvilet caria e Zongli nessuno può toccarlo se ha lo scudo attivo. Dopodiché, ovviamente, ci sono team più o meno forti. Nel raggio dei top tier abbiamo sicuramente Arlecchino, che ha avuto un'ottima uscita recentemente. E ovviamente sto parlando di Shielder, motivo per cui uno potrebbe pensare Ehi, è appena uscito un Geo Buffer debuffer che cura pure? Basta, Zongli lo tolgo da Arlecchino. No! Worka! Funziona bene assieme! Arlecchino, Bennett, Shielder e Zongli è buono, forte e pulisce in un certo tempo, non voglio dire record, Ma molto buono, poi ovviamente se abbiamo necessità di rompere scudi elementali specifici Quindi se abbiamo davanti uno scudo Pyro, lì è un problema Ma funziona bene! Quindi di nuovo, sembra un'antisinergia, esce un personaggio, dico simile a Zong Che debuffa le resistenze ed è Geo, quindi qualche Crystallize barra scudo lo può fare pure Shielder Eppure lui rimane buono, anzi, è ancora più buono grazie all'ultima uscita È qualcosa di assurdo, è un mix tra invecchia, ma invecchia molto bene Allo stesso modo Navia, c'entra comunque Shielder, ma accantoniamola Navia a Zongli, ci mettiamo fuori nel Bennett, a me piace, è forte, è comodo, mi sento sicuro, hai la risonanza Geo Sì, per carità, ripeto, c'è Shielder a poterci mettere Ma per me Shielder, sì, ti fa fare più danni, ma genera meno pallettoni, quindi meno Crystallize Zongli, invece, oltre che al sicuro che ti tiene, ti dà anche più pallettoni Quest'uomo non smette di essere forte, maledetto Spoiler, stavo per dimenticarmi, Zongli è pure buono con quella maledetta di Mualani Perché fai Mualani, ci metti una Shaling, chi applica Pyro, ci mette una bellissima Emily E in fondo Zong, se al sicuro abbassi la resistenza, fatto Allo stesso modo con Kinnitch, anche se non lo consiglio Puoi giocare Kinnitch con Shaling, Bennett e Zong, smettila di essere forte Ovviamente a livello di pool value arriverà un video specifico, aspettatevelo un po' più avanti Ma al momento ciò che vi posso dire è che molte persone in live su Twitch Dove faccio i vostri abissi, faccio le vostre review degli account, review dei personaggi Mi chiedono, ma io lo prendo o non lo prendo? Dipende molto da cosa giocate Per capirci, una Ganyu Melt senza Zong è un parto, è veramente un incubo, ok? Lo scudo di Zongli è troppo troppo comodo Così come in alcuni casi fa un sacco comodo se vuoi giocarci l'Inei Un L'Inei Vape fatto con L'Inei, Furina, Bennett, Zong Ci puoi mettere cazzo al posto di Zong Ma Zong è troppo comodo, nessuno può colpirti Va nerfato Quindi non è che voglio che venga nerfato Ma abbiamo Chitlali Abbiamo piccolo spoiler che vi faccio Chitlali, Pai Esca in 5.3 È uno shilder, è un grosso shilder Il secondo più forte del gioco Dopo Zong, Ecraio, Pareapplichi Vi terrò informati nei prossimi giorni Quindi di nuovo se volete seguirmi mi fa gran piacere Però appunto vedremo perché quest'uomo non si spodesta Per quanto riguarda quell'enorme Drago Hydro Il maledetto Sovereign Qui ragazzi non se ne esce Con Shilonen recentemente ha avuto un altro upgrade Non che gli servisse Infatti mi voglio perché potenzi il personaggio più forte del gioco È un'ottima domanda In ogni caso New Villette Che sia con Furina Quindi un classico che per Kerry In cui possiamo metterci Shilonen Baizu Kazuha lo stesso Zong Vario Raiden, Fish, Cookie Quello che vi pare Quindi quello è il primo Abbiamo pure l'Hyperbloom Va benissimo New Villette con Furina Ci mettiamo Naida E Cookie Fullmastery Raiden Fullmastery Comunque per forma da Dio Vogliamo farlo Vape? Va benissimo New Villette Con o senza Furina Ci mettiamo Shaling Ci mettiamo Baizu Non ha mezzo problema Al momento non c'è un motivo singolo per non prendere New Villette Pure le armi in qualche modo si possono reperire Magari avete quella di Mualani Magari avete il Wizzit se non c'è niente Potreste avere lo Sprayer Ci sono quelle craftabili con HP Quindi comunque per forma Se non fa danni direttamente lui Ne abusa la reazione Come ad esempio l'Hyperbloom Quindi io ovviamente ve lo consiglio Se volete avere la vita facile E ovviamente pure un Hydro Quindi fa un sacco Un sacco di cose Detto ciò Per quanto riguarda il Banner Army Io ripeto Lo rivedremo poi con le 4 stelle Al momento è un bello scam Perché cercare di prendere il suo bellissimo Tomo Ci sta certamente Ma se perdiamo Rischiamo di prendere la Vortex Vankisher Che è la lancia con attacco di Zonglico La vecchissima E a chi la mettiamo poi? Lancia attacco Mi viene in mente una su tutte Shenè Perché ovviamente più attacco a Shenè Più poi vi bafferebbe Quella possibile Ayaka O Ganyu Shenè se non lo sapete È un personaggio leak Uscirà fra qualche anno Non l'abbiamo ancora visto Mentre per quanto riguarda I 4 stelle specifici Quindi che andrebbero nel loro banner Non abbiamo di nuovo conferma Perché sono misti Per ora sappiamo di Fischel Eizu E Ororon Fischel ovviamente sarebbe da fare C6 Senza dubbio Eizu è un DPS Che non vi serve Ma se vi piace Eizu Performa bene Lo potete portare in abisso Con le giuste armi Talenti e artefatti Lo potete fare benissimo Con 36 stelle E vi avanza il tempo Quindi se vi piace Scelta vostra È completamente inutile Se non vi interessa Per quanto riguarda Oron Ha de lo use In dei team taser Quindi con electro charge La C6 Vediamo un attimo Se può andare bene Con l'overload Per baffare Arlecchino C'ha delle cosittine Però non fa impazzire Se c'è Fischel Con questi due maledetti Qualche pullettina Magari prepiti Se non le volete Comunque sarebbe da fare In ogni caso Per oggi ragazzi Mi fermo con i leak Mi raccomando Un bel follow Un bel like Grazie mille se l'avete già fatto Ci becchiamo nei prossimi giorni Con video pull Video analisi di personaggi Leak Quindi non vi preoccupate Arrivano tutti Vi lascio sopra in pressione Le schede che sto facendo Io su discord Quindi entrate nel discord sotto Che sono le build complete Con un foglio E vi dice tutto Ogni singola cosa che vi serve Ho fatto tardi Scusate Un bacione ancora E ci vediamo alla prossima Ciao belli